Musica Bella ragazzi sono Gio e questo video serve soprattutto per darvi delle informazioni su ciò che succederà per una settimana, una o due settimane sul mio canale e soprattutto per informarvi sul Games Week Partiamo subito con... con Ruttino e allora ragazzi questa settimana diciamo che sarò abbastanza inattivo sul canale vedrete solo questo video e le facche di venerdì per il semplice fatto che io questa settimana c'ho pieno di verifiche lunedì che era ieri per voi per fortuna non ho avuto niente mentre oggi, mentre voi state vedendo questo video che ho sei io che a scuola io ho fatto la verifica, l'interrogazione di inglese, l'interrogazione di spagnolo e la verifica di storia penso poi domani farò la verifica di economia e la verifica di letteratura quindi su una poesia poi giovedì e venerdì altre cazzate varie comunque, no, giovedì e venerdì niente perché quindi posso portarvi video mentre venerdì, sabato e domenica quindi tutti i tre giorni ragazzi sarò al Games Week a Milano vi lascerò in descrizione tutte le info per prendere i biglietti per vedere a che ora a che ora chi ci sarà e tutto perché è la seconda anno di fila che vado al Games Week e cosa succederà al Games Week? anche loro dove c'è Eurogamer più o meno diciamo dove ci sono la maggior parte dei videogiochi più importanti diciamo anche Call of Duty, Battlefield e se c'è anche lo stand di Ubisoft mentre il stand di FIFA, stand quelli dei giochini del cazzo oppure di Just Dance dove c'è di Suido Favi Giochi Valla là non ci sarò quindi per cercarmi non sarò nessuno stand perché nessuno mi ha invitato perché nessuno mi caga visto che ho 3.000 iscritti questo è razzismo anche perché sono nero e facciamolo, usiamo la scusa perché sono nero giusto per incontrare qualcuno e quindi ragazzi venite in tanti spero che almeno qualcuno mi riconoscerà almeno uno oppure porto un mio amico con me e dico riconoscemi in live e faccio la registrazione e tutto spero che qualcuno mi riconoscerà se mi riconoscete ditemi facciamo le foto, me le passate anche vi do il numero, facciamo le foto, me le passate e lo metto tutto in una specie di montage che farò registrerò qualcosa con la telecamera ad esempio non farò un video farò una specie di video diario tipo quello di Zamp non dove parla ma solo lui che registra e magari sotto la canzone un po' di effetti non farò live, parlate e comunque ragazzi quindi volevo dirvi nulla, seguitemi sulla pagina facebook perché là farò vedere dove sono dove girerò, con chi sarò come sarò vestito, come se vi faccio anche da voi riconoscermi e tutto andrò tutti e 3 giorni sia la mattina che il pomeriggio quindi non so che dire se mi incontrate fermatevi assolutamente non c'è problema, anzi mi fa piacere conoscere più persone possibili di voi e ultima cosa no nulla portatemi Black Ops 2 così ve lo firmo e hitate come me non fatelo perché così andrete in crisi non interrete più un cazzo quindi non fatelo e nulla ora c'è la clip ve la lascio qua davanti da Joey è tutto ci vediamo venerdì con le facche che è il game sui bello ciao 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 ciao